Sono arrivate altre condanne per i presunti spacciatori coinvolti nell'indagine thunderstorm condotta dai carabinieri. In pratica, oltre ai patteggiamenti richiesti da nove persone nel dicembre 2021, le pene andarono da 4 anni e 8 mesi di reclusione con multa di 20.000 euro a 8 mesi di reclusione, in questi giorni il giudice del Tribunale di Pistoia, Stefano Billet, ha condannato altri 7 imputati per spaccio di sostanze stupefacenti, con pene che vanno da 3 anni e 4 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, a 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa. L'indagine aveva preso il via nel dicembre 2019 dall'arresto in fragranza di uno spacciatore nei pressi di Quarrata. Da quella vicenda i carabinieri della città del mobile, grazie anche a pedinamenti, intercettazioni telefoniche ambientali, hanno portato alla luce l'esistenza di una vasta attività di spaccio, i cui i venditori al dettaglio di sostanze stupefacenti erano principalmente cittadini italiani, non coordinati in un'unica organizzazione, ma ciascuno con le proprie zone di competenza e clientele fisse. Tra gli spacciatori però vi erano spesso rapporti di collaborazione. Durante questa fase dell'inchiesta i militari dell'arma avevano eseguito 10 arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, uno per mandato di cattura internazionale e uno per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Inoltre erano stati denunciati tre soggetti e sequestrata sostanza stupefacente per un valore di quasi 200 mila euro. L'indagine, che ha visto i militari impegnati dal dicembre 2019 al giugno 2020, è risultata particolarmente complessa anche per la scaltrezza e l'indole criminale evidenziata dagli indagati. Nel marzo 2021 a Pistoia, Prato e Campi Bisenzio, i militari del comando provinciale di Pistoia, supportati dal personale dei comandi di Firenze, Prato, Pisa, Livorno e Lucca, con l'ausilio dell'unità cinofili di Firenze e il quarto nucleo elicotteri di Pisa, avevano eseguito 19 misure di custodia cautelare, disposte dal GIP, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.